Buonasera ragazzi, allora oggi parliamo ancora di arte greca e in particolare dell'evoluzione della statua. Allora, come sempre, un breve saluto e subito cominciamo a guardare la mappa concettuale. Allora, vediamo poi in generale l'evoluzione della statua greca, come si svolge nel tempo. Partiamo appunto con il periodo arcaico e con il Kuros e la Core, di cui un po' già vi ho accennato. Kuros, la statua di giovane maschio e la Core, la statua della giovane femmina, ragazzo e ragazza. Poi abbiamo nell'età classica degli autori in particolare, poi affronteremo in maniera specifica l'analisi di queste opere, che sono veramente interessanti e bellissime. La prima è il Doriforo, cioè il portatore di lancia di Policleto, che è in effetti l'inventore del canone di proporzioni perfette del corpo umano, tanto celebrato nell'arte greca. La data appunto è 450 a.C. Poi abbiamo il discobolo, cioè il lanciatore del disco, è uno delle specialità delle Olimpiadi, di Mirone, tenendo presente che l'originale era in bronzo, del 455 a.C. e infine l'Afrodite di Cnido, portata appunto a Cnido, in Asia minore, del celebratissimo Prassitele, uno degli artisti più amati nell'antichità, e con lui nel 360 a.C. comincia una visione, una certa crisi, una visione più intimistica dell'arte. Prima c'era la celebrazione, la forza, l'atleta, l'eleganza, qui comincia una visione diversa, poi ne parleremo in seguito. Infine l'età ellenistica, quindi il periodo di crisi, abbiamo, come abbiamo detto in precedenza, una serie di opere in cui entrano la sofferenza, la vecchiaia, il dolore, la morte, l'uomo in balia degli dèi, cioè gli dèi che fanno dell'uomo quello che vogliono, con appunto il gruppo dell'Ao Conte, dei tre artisti rodiesi, si era sviluppata in quel periodo a Rodi nell'età ellenistica, una bellissima scuola, una scuola molto fiorente di scultura e anche di altro, però a noi comunque, come anche delle opere precedenti, non sono rimaste che delle copie romane, spesso in marmo. Abbiamo quindi l'Ao Conte di Agesandro, Attano d'Oro e Polidoro nel 150 avanti Cristo e infine l'Aniche di Samotracia di Pitocrito nel 200 avanti Cristo circa, anche questa della scuola di Rodi. Allora andiamole a vedere una ad una in particolare. Allora, evoluzione della statua perché? Perché andiamo da una da una forma molto statica, molto semplice, che è quella del periodo arcaico, quindi del periodo diciamo di formazione della statuaria greca, in cui la statua antropomorfa comincia veramente a fare la sua comparsa in Grecia, però conserva ancora in massima parte, come tra poco vedremo, innanzitutto una grande staticità, cioè un corpo molto fermo, si regge su due gambe, appena appena ogni tanto si vede una delle gambe un po' avanti all'altra, come in questo caso. L'anatomia è trattata in maniera estremamente, diciamo, stilizzata, semplice. Anche la pietra non è particolarmente lavorata. Abbiamo poi, in particolare nel nel volto, se ci fate caso, proprio una specie di di sorriso che viene definito proprio il sorriso arcaico delle statue greche. Abbiamo una pettinatura che ricorda molto le pettinature mesopotamiche e quindi diciamo questo è il canone, diciamo, l'aspetto del giovane uomo greco in questo periodo. Poi per quanto riguarda invece la statua della donna abbiamo la core, quindi la giovane donna, la ragazza, che in questo periodo erano assolutamente vestite. Qui abbiamo, come vedete, una specie di copricapo di... che ripete, sempre di ispirazione mesopotamica ancora. La pettinatura altrettanto rigida, i capelli piuttosto diritti, al limite soltanto un braccio veniva posto in avanti. Il corpo assume quasi la forma di una colonna o di un vaso, se ci fate caso, molto molto diritta. Un'anatomia quasi inesistente, appena appena accennata. Quindi questa era la core. Per completare questo momento voglio farvi vedere, ecco, nel passaggio tra la statuaria, cioè la tipologia di statua del periodo diciamo, diciamo, antecedente, quindi quello che abbiamo appena visto, estremamente abbozzato, molto semplice, diciamo, di ispirazione ancora molto vicina a quella mesopotamica. Abbiamo poi il passaggio all'età classica e quindi al periodo arcaico all'età classica e il cambiamento è veramente molto 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 forte. Quindi qui vediamo la pettinatura molto molto realistica, l'abbigliamento e i lineamenti estremamente curati, anche la pietra più levigata, maggiormente lavorata. Quindi andiamo al cambiamento. Quindi l'età classica è il momento in cui finalmente abbiamo questo passaggio, questo meraviglioso passaggio da una statua antropomorfa appena abbozzata ad una statua antropomorfa veramente celebratissima, veramente nell'antichità era amatissima, tanto che molte delle statue che purtroppo non ci sono pervenute per la grande distanza di tempo. Abbiamo avuto però tantissime copie romane ed anche successive, diciamo, che ci danno la possibilità di ammirare e apprezzare le opere in particolare dell'età classica. Questo è il doriforo di Policleto. Policleto, in pratica, che cosa fece? Perché io vi ho detto che per questa, diciamo, perché era molto molto, fu molto celebrato Policleto. Policleto molto di più di Mirone fu celebrato. In realtà, innanzitutto, la cosa interessante è che come facciamo noi a conoscere i titoli? a parte i titoli delle opere, ma in particolare i nomi degli autori, proprio perché nell'età classica si fece talmente importante la figura dell'artista che gli artisti cominciarono appunto a firmare le proprie opere. Quindi abbiamo l'invenzione del canone di proporzioni perfette, quello del cosiddetto bello ideale che permea tutta l'età classica greca. Quindi cosa fece Policleto per costituire questo bello ideale in questa statua di doriforo, cioè di portatore di lancia? La lancia non c'è, manca ovviamente, ma la statua appunto rappresenta un portatore di lancia. Cosa fece? Prese dei modelli, dei giovani bellissimi, dei giovani modelli e prese varie parti del corpo di questi giovani modelli cercando di mettere insieme un modello di perfezione assoluta, non realistica, cioè quindi non è il ritratto di un giovane, ma è il ritratto delle parti più belle di questi giovani. Quindi in effetti una lavorazione pregevolissima del marmo che molto probabilmente in origine era marmo dell'isola di Paro, quindi marmo bianco molto pregiato e che cosa fa? Appoggia in effetti la statua su una sola gamba aiutandosi nell'equilibrio con la scultura anche di un di un tronco di legno che lo affianca. L'altra gamba è piegata mirabilmente, appoggiata solo sulla pianta dei piedi, sulle dita dei piedi e poi vediamo il corpo che delicatamente si torce nel busto con un volto veramente scolpito in maniera mirabile. Quindi questo è Policleto, l'amatissimo Policleto. Poi vediamo il discopolo di Mirone. Il discopolo c'è il lanciatore del disco, uno degli atleti delle olimpiadi, una delle specialità delle olimpiadi. Che cosa possiamo dire di questa statua? Innanzitutto perché Mirone non fu tanto amato? Diciamo che il momento in cui ha preso, ha rappresentato questo artista, questo atleta, in effetti è il momento che viene la torsione del busto, quindi la raccolta delle energie del corpo prima del lancio del disco che si svolge con una doppia torsione, in effetti, se ricordate come si svolge il lancio del disco. E che cosa fa? Praticamente è come se non avesse espresso, questo secondo gli storici dell'epoca, come se non avesse espresso veramente lo sforzo, la fatica dell'atleta. Quindi il corpo, il volto sembra sereno, non sembra quello di un atleta che è impegnato. Appena appena, diciamo, non c'è una torsione, un guizzo dei muscoli, la forza dei muscoli che stanno per operare il lancio del disco. Però comunque rimane il fatto che il corpo è lavorato comunque su due assi di torsione, quello dato dalle braccia e dalla testa e quello dato dalle gambe e dal busto. Quindi comunque è una lavorazione molto più avanzata del corpo umano. E quello che invece fu ancora più amato rappresenta una statuaria greca più tarda dell'età classica ed è Prassitele, amatissimo per la particolare lavorazione del marmo che lui riusciva ad operare, di una levicatezza, di una lucentezza, quindi riusciva a rendere così liscio il marmo da risultare meravigliosamente quasi come se fosse proprio la pelle, come se si potesse toccare la pelle. Vi ricordo anche che queste statue erano in parte dipinte e con occhi di vetro per ricordare, diciamo, l'ispirazione alla natura che avevano i greci. Dicevo prima una visione più intimistica perché innanzitutto per la prima volta la Dea Venere viene rappresentata nuda, afrodite in greco, mentre probabilmente intenta a rivestirsi o a sfogliarsi, insomma, per fare un bagno. diciamo, l'atteggiamento di pudore, di delicatissimo pudore della Dea che si copre il pube e, diciamo, una visione, ecco, nei gesti quotidiani, la Dea vista comunque nei gesti quotidiani. Adesso passiamo, appunto, all'Ao Conte. cambia completamente la scena. Abbiamo innanzitutto l'ispirazione di questo mito di Lau Conte che praticamente era un sacerdote troiano che cosa fa? Che innanzitutto aveva suscitato l'ira degli dèi perché i sacerdoti non potevano sposarsi, lui si era sposato perché aveva avuto questi due figli. Questi due figli che cosa avevano fatto? erano stati aggrediti da due serpenti marini perché lui aveva osato sfidare gli dèi quando, diciamo, aveva, durante la battaglia di Troia i greci avevano portato il cavallo all'interno della città e lui era l'unico che aveva dubitato che, diciamo, questo cavallo potesse nascondere un tranello. Quindi viene, i due figli vengono aggrediti da questi serpenti mandati dal dio Poseidone quindi il dio del mare Nettuno e lui stesso viene ucciso i figli vengono uccisi, viene ucciso anche lui. Qui si vede proprio il momento del dolore come avevamo detto prima nell'età ellenistica il dolore, la sofferenza l'uomo che non è nulla di fronte agli dèi di fronte al destino che ne fa quello che vuole quindi la rappresentazione del momento drammatico del momento più tragico e anche l'estrema contorsione l'eleganza della rappresentazione nonostante, ecco, diciamo il modo in cui è stato rappresentato è ugualmente mirabile e nonostante non rappresentasse più il bello ideale dell'età classica Anche questa statua molto probabilmente l'originale era in bronzo infatti si vede in alcuni elementi come per esempio questo giovane diciamo questo espediente della stoffa che sulla sua spalla si unisce alla gamba molto probabilmente per aiutare la fusione in bronzo cioè della preparazione a cera persa che era una delle tecniche per realizzare la fusione in bronzo l'ultima statua che noi abbiamo analizzato è la Nike di Samo Tracia era anche essa legata a un altro mito Nike, la vittoria la vittoria lata era considerata la dea della vittoria sportiva e della vittoria in guerra qui è rappresentata quasi nell'atto di posarsi volando su una nave su una nave da guerra qui vediamo meglio la parte anteriore le braccia che diventano ali la statua manca di testa non c'è però vediamo in questo quasi come se il vento la stesse muovendo ha una leggerezza e un'eleganza che è veramente meravigliosa io ragazzi con questo vi saluto e vi do appuntamento alla prossima lezione sull'arte greca e vi do appuntamento